Aspetto l'autobus, comunque l'auto c'è adesso, a che ora c'è? A lunedì? È passato? Grazie. Lo sciopero dei mezzi di trasporto annunciato da varie sigle sindacali nelle marche ha avuto questo esito. Qualche telefonata, un po' di preoccupazione nei viaggiatori, ma nulla di più. Gli autobus del capoluogo d'Orico sono rimasti tutti attivi e le corse si sono svolte regolarmente. A proclamare lo sciopero le sigle ADL, CUB, SGB, SICOBAS, che però non contano molte adesioni nelle marche. I sindacati continuano a chiedere l'aumento dei salari e il rinnovo dei contratti. Questo è il motivo della manifestazione che ha preso piede soprattutto al nord Italia. Non sapevo nulla dello sciopero. Sapevo che c'era lo sciopero, però io ho lavorato, quindi non so gli altri cosa fanno. Non lo so, io adesso penso che parte. Non sapevo che ci fosse lo sciopero, non ho sentito niente. Per quanto riguarda l'autobus sono delle sigle che non sono rappresentative qui nella zona di Ancona. C'è chi lo fa e chi non lo fa e allora io ho chiamato una nipote e mi sono fatta portaggiù. Adesso volevo sapere se ce l'ho per tornare, mi ha detto che c'è. Ci fa in tempo ancora, spero, se non fa sciopero. Ma non ho sentito io di sciopero. Puntuali, devo dire che tipo ho preso la C oggi un paio di volte perché dovevo fare delle robe e ho fatto un ritardo di 10 minuti, 15 minuti, però non è la prima volta che mi capita, ecco. Quindi ci sono un po' abituata, però se non è il resto tutto regolare. Analoga situazione in stazione, solo un ritardo di 10 minuti su un treno in arrivo e su un altro in partenza nella fascia oraria dalle 13 alle 14.30. Per il resto non risultano treni cancellati, molte persone comunque non sapevano nulla di questo sciopero. No, non ho sentito nulla. Abbiamo sentito, però sembrerebbe che fino ad oggi non ci sono stati treni che sono stati soppressi, almeno così diceva lì in biglietteria. Dove siete dirette voi? A Portodascoli. Quello della stazione di Pesaro, quando abbiamo fatto i biglietti, ci ha detto che il 20 ci sarebbe stato sciopero. Direi di no, al momento non sembra. Ecco, il nostro è stato appena annunciato. La saluto.